La sua figura di poeta, cultore e studioso dei valori tradizionali, delle memorie, della storia della Valcellina e della parlata di Barcis. Abbiamo inteso onorare questo nostro poeta, che è stata una figura veramente mitica, perché lui praticamente con la sola terza elementare si è fatto una cultura da autodidatta, ha imparato il latino, ha imparato il greco, ha imparato le lingue, ha scritto, ha fatto poesie meravigliose e quindi ne abbiamo cercato di rionorarne la memoria con questo premio, che anche quello è nato subito bene, ha avuto un grande successo e quest'anno abbiamo avuto più partecipanti al premio letterario che abitanti di Barcis, quindi è tutto bene. Il premio Malattia dal 1991 è stato aperto anche alle etnie e alle lingue minoritarie, che sono albanese, catalano, grecanico, tedesco, occitano, croato, franco-provenzale, friulano, ladino, serbo e sloveno. Il lago artificiale di Barcis, nato negli anni 50 per scopi idroelettrici, col tempo è diventato un centro nautico di notevole interesse. Nel 1985 nasce un progetto che allora sembrava quasi impossibile da realizzare, ovvero ospitare manifestazioni motonautiche di circuito. E invece va in porto e nel 1992 alle prove di campionato italiano si aggiunge anche una gara valida per il campionato europeo. Noi quando siamo partiti, siamo partiti forse con un atto di forza di coscienza, abbiamo deciso di partire con il campionato italiano e siamo andati bene, quindi dal primo momento tanto è vero che poi ci hanno dato anche l'europeo, ci hanno dato il mondiale e quest'anno abbiamo festeggiato proprio i 25 anni della motonautica. Guida dal 2002 la delegazione regionale Friuli Venezia Giulia della FIM, Federazione Motonautica Italiana, Maurizio Salvador, tra gli ideatori delle gare di circuito e promotore di grandi eventi sportivi a livello regionale, tra cui le universiadi. Buon pomeriggio Paola, hai portato con due ragazzi? Sì, li ho portati per far vedere come si mostra il nodo della cintura, come faccio il nodo. La cintura? Allora dovete sapere che Paola Boz è campionessa mondiale di sumo, medaglia d'argento 2008 ai mondiali, bronzo 2008 agli europei e anche lo scorso anno... Bronzo ai mondiali, in Thailandia. Grazie. Allora adesso prima di mettere la cintura al ragazzo, vorremmo capire come mai a Bargis nasce una campionessa di sumo? Ma io ho praticato judo 25 anni e poi quasi per gioco ho iniziato a fare sumo. La mia fortuna è che riesco a farlo come professione, faccio parte infatti delle Fiamme Azzurre, che è il gruppo sportivo della Polizia Penitenziaria e lo faccio a tempo pieno. Ma quanti metri sono Paola? E sono più di 5 metri. Però chiaramente voi donne avete una tuta sotto, immagino. Sì, c'è un body, le donne hanno un body. Allora scavalca Luca, là. Si vince quando? Allora c'è un cerchio, si combatte sulla creta. C'è un cerchio, in genere è una corda fissata e per vincere bisogna spingere l'altro fuori dal cerchio. Oppure fargli mettere una parte del corpo per terra anche dentro il cerchio. Piegati Luca. Allora, i samurai c'è un significato. Vengono bagnate le mani sulla rugiada. Si lavano, si purifica lo spirito, si offre lo spirito e si fa vedere che non ci sono armi. Questo è il significato del saluto rituale, che ogni incontro viene fatto da entrambi i contendenti. Dopodiché da qui si entra dentro il cerchio, si fa un passo avanti e ci si piega. Ci si piega entrambi e in questo momento c'è la sfida. Ci si guarda negli occhi e c'è la sfida sulla sorte dell'incontro. E chi vince? L'incontro verrà da lì a pochi attimi, però negli occhi e già nello sguardo si capisce quello che è più determinato. Io mi penso che il mio padre mi contava che quando erano cannais, là su dal punto di vista di Tianal, e quando era nua da mangiare o era poco, in tanto che se non la metteva sulla polenta, loro cannais si viva a pestare le trotte o i morsons. E le trotte venivano fatte così. Si chiapava le trotte, si stava a tocc, si infarinava, si frideva dal buttiru e dopo si passava dentro da un desfritte e decigola, si santava un po' di aga, un po' di conserva, sale e pevere e si mangiava così con la polenta. Bartis era conosciuto molto qui nella valle per i fagioli, infatti si diceva una volta i fagioli di Bartis, le patate di cimolai, se no erano le più buone. I fagioli erano anche quelli fatti in maniera abbastanza semplice, o si faceva il minestrone che veniva servito anche nei casoni del bosco, così quando i boscaioli così tagliavano i boschi, la sera veniva sempre servito tutte le sere il minestrone. Un bel minestrone caldo. Sempre, sempre, e quindi tutte le sere il minestrone, si serviva il minestrone oppure si facevano i fagioli in umido, come si facevano qui appunto. Al furme i fritt, che non è il frico, e senza l'aggiunta delle patate appunto, ho fatto solito con due tipi di formaggio e con la cipolla volendo. I tipi di formaggio? Sì, il formaggio montaggio, fresco, diciamo così, e un po' più stagionato. Niente, quando veniva fatto il formai fritt, veniva fatto appunto con il formaggio salato, si usava, perché poi era troppo saporito, si usava a mettere sopra il formaggio cotto, le uova senza sale, questo toglievano un po' di sale, e lo manteneva anche più morbido, diciamo così. Qualche altro piatto? Lei mi parlava prima di un pesce marinato, no? Sì, gli sclopetons, sono le salacche appunto, che si mettono sotto sale, pressate, che poi appunto durante l'inverno, un piatto invernale, diciamo così, si usa appunto a brustolirlo sulla braccia e poi condirlo con la cipolla, l'aglio, l'olio e l'aceto, si mangia con la polenta, si mangia questo piatto qui freddo con la polenta calda.